RaspScout Quindi possiamo andare a Peekum dove non è un grosso problema Per me possiamo anche andare a DCR Quale preferisci dei due? Uguale Se andiamo a Peekum però a sto punto prendo la Viper Perchè? Perchè mi manca Eeeh... Ieri ho visto la mia Viper, allora adesso voglio usare la Viper Guarda che sarebbe ancora in grado di essere così eh Beh, piglietti la Viper Andiamo a Peekum, vabbè Yeeeh Un po' di Viper, bustiamo dentro la stazione, yeeeh Forse è un po' esagerato Wanted No, fino a quando non ciocchi contro qualcuno non diventi Wanted Natalia Lui ciocca già contro il nulla Tuttavia è gigante Sei giã... No, no, si fa a frana in test Lui è il giro Ormai Elite ha imparato solo una parola Elite Chaos Asteroidiiii Elite Unisciiti a me E mandiamogli un portachiavi asteroide Così... Dopo proseguitere hanno più il segno Neuuu Neuuu Me li sogno di notte ormai l'unica cosa è che la mia viper è da rifare no no no, devo solo giungere di due armi, che li avevo tolto cerchiamo portacchiavi asteroide non è che lo cerca veramente asteroide minaccia la terra no, non quel genere di... per favore mi accontento anche di uno falso piccolino canoni hai tu? un burst e due multicannon asteroide siamo a mano colletta per comprare una bici a forma di asteroide no, per comprare una bici per andare CONTRO un asteroide vorrei dire mettici i cannoni mettici i cannoni non so se riesco a tenere tutto però scudi offline eccolo lì tra parentesi oggi che ho fatto gli esperimenti con la dropship ho dovuto mettere generatore 6A la power plant il plasma costavano troppo come energia è possibile non riesco a tenerli due cannoni con la power plant 2A un momento perchè hai la 2A? oppure facciamo una gif della nave di Eriper che si schianta contro un asteroide e la spammiamo ogni volta grazie perchè ora però quanto è 2A? non lo so se volete fornisco la nave voi ci pensate a fare la scena tutta con l'asteroide anzi no perchè poi la spammate veramente eh appunto è divertente proprio mettiamo anche due 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 reinforcement non è che avevi venduto la power plant 3A per recuperare soldini per qualcosa per la FAS ma figurati non costa una sega però quanto della cioè per noi non costa una sega scusa si è un dettaglio che mi fa più sbattare poi andarla a cercare che altro che paint job gli metto si dettaglio Lucchino ha preso qualche skin per la Viper non hai preso anche il pack ecco lì oh guardalo lì che cominciano già con i link da Amazon apriamo i link da Amazon portachiavi da parete con design campo di asteroidi chiave board chiavi ganci eh? tradotto malissimo ma costa un illina di dio madonna facciamo prima a farlo noi 45 euro non ne avevo visto il prezzo più 3 euro di spedizione perchè sai com'è la vibe sto meglio già portachiavi manette cosa mi... mi bloccate sui... no non voglio sapere cosa vuoi farci con le manette lascia perdere piccum io sto già per droppare la fate scov coso oh bravo così mi metti un bel beacon e vai qua sta cominciando lo spam da Amazon a cercare le peggio borchiate che... però è bellissimo l'inferno stiamo allevando dei mostri lo sai Lucchino ci ritorniamo ci ritorniamo ci ritorniamo ci ritorniamo Oh oh senza offrire nessun offeso ovviamente eh ho neccato... l'wing si è bravo sono proprio bravo eh c'è dei thruster verticali in confronto alla dropship sul courier che... mi sono schiantato malissimo a scendere un po' qualsiasi cosa c'è dei thruster paura rispetto alla dropship non hai tutti i torti ma... è successo qualcosa perchè non posso più fare nulla eh ti è andato in puttana e me non devi uscire dal gioco e vaiiii sei la staziana? si allora si e vaiiii ok vuoi droppare un attimo prima che come vuoi se no mi... rush for station? no face cove face cove fake stove quello lì te ne la trovo oh aspetta intanto che arriva lui ma esci pure ok qua stanno partendo gli spam di porta chiavi di tutti i tipi allora open play ok 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 l'assassination nelle missioni ma fa troppo sbattimento ti ho mandato di nuovo la wing oh no guarda questo che bello che è questo te lo regaliamo assolutamente così ogni volta che ti svegli vedrai questa immagine ok eeeh ok eeeh ok eeeh pico però devo dirlo mente eh eeeh che cazzo di cos'è scritto? eeeh che cazzo di cos'è scritto? eeeh eeeh ah quello si quello è strato no l'ultimo dico si 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 pensavo si quello del porta chiavi no quello da porta chiavi così è effettivamente un po' caro proprio un pelo e salvati anche la maglietta sidewinder non ho neanche guardato dove devo parcheggiare all'imp3 forse siamo un po' troppo eroci ragazzi allora fammi vedere se ho dei contact da consegnare no allora lounge ho sbagliato il tasto no ho sbagliato il tasto cazzo che botta eh sono il tasto di stoff dovete vedere un ciucco che parcheggia che deve rippa oh aspetta non perché sono io il ciucco aspetta sto arrivando se volete vedere un cretino che invece cerca di andare a vedere un altro cretino Vai p'indietro, 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 p'indietro. Perché non ho il handiped? Potrebbe essere un ottimo motivo. Eh, bravo, stronza. Ok. Parrota, oh mio Dio. Pfff. GPS esteroide. Qua stiamo degenerando proprio malissimo, che c***o. Ma ce n'è già un'altra. Esteroide. Esteroide. Oh mio Dio. Che c***o è? L'asteroide urlante. Che c***o è questo? Eh, infatti assistono, non puoi uscire dall'hangar così, guarda eh. Aspetta, vado più indietro. Aspetta. Vai. Così puoi mollare. Io lo faccio la stessa cosa ma andando avanti. Ok. Quei leak di tiny urlo mi preoccupa attraverso qualsiasi cosa. l'ha. E' una testa. Oh c'è la maglietta hashtag asteroid della Wai. C***o. 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 Oggetto in buono stato di conservazione. A vedere dall'immagine sembra tenuto di merda, ma vabbè. Significa che lo prendi in mano e si sbrigio. Probabile, se non prende fuoco direttamente. Orecchini, argento, asteroide. No, non porto orecchini, mi dispiace. Meteorite Astroite Strobe. No, vabbè, questo te lo devo mandare qui. Questo è proprio un meteorite? Cioè, almeno riproduzione di un meteorite. No, perché mi ha cancellato il link? Questa va... eh? Non è arrivato niente. No, mi ha cancellato il link, ma non so perché... Il bot non ha segnalato nulla. Perché sono sulla pagina del bot adesso. Mettiti il inner beacon. Ecco, grazie. Sto doppando. Malissimo. L'anello lì è figo comunque, è bello. Eh, bianco che ti rompe la retina. No, non quei! C'è un ultimo link. Ah, ok. Qualcuno mi dice che devo comprarmi un Bluetooth sistema multimediale vivevoce per la macchina. Lo stai postando... Ammettilo, lo stai cercando di vendere tu. No, non lo compro. Grazie comunque che mi ha droppato col... col segnale dietro. Va bene, grazie. Most badly. No wanted, ovviamente. Un creeper. Eh, sto arrivando. Aspetta che ho dovuto girarmi un attimo. Magari se metto anche... gli alt point, giusto? Infatti... in wing da due. Probabilmente con l'Imperial Eagle. Mi stai già sparando al clipper, tu? Certo. Mi dispiace! Le forniremo noi adesso, non ci preoccupare. Bacino. Perché io sono in flight assistosa. Ah, che sì. Wow, il burst media lo posso ottenere all'infinito con quattro pip. Uno solo, sì. Shields offline. Da chi? Puta troia, Neon Eagle. No, no, no. Momento. Quello di non dirmi che... vedo già nel Link un Yo Reaper di troppo. Che... vuol dire 180 acquisto? Troppo taffze! Sì... Già il fatto che c'è un Dvd asteroid versos shearer la cosa non è che mi dica proprio tanto bene. già bing in sé è un po' una pure andiamo nel dvr scambi c'era ancora l'imperialigo che ti punzecchiava il culo vero che mi ha tolto gli scudi mi ha fatto il 6% allora, apriamo un attimo il link cos'è andato? minchia hai sparato? nope sono a 4 chilometri e mezzo ho fatto 21% con un colpo di cano e io stavo guardando questo che cazzo vuol dire? oh, arrivo, arrivo, arrivo dove? nope, le celle, nope dove deriva il nick? sai che non me lo ricordo neanche più? ahahah power plant perchè con le anaconda ne abbiamo bisogno va? non abbiamo tanta potenza di fuoco grazie anche per il casco si sa mai dopo tutto questi asteroidi sono duri dovrebbe essere più tranquilla adesso no, più o meno un po' adesso si secondo me Ripper da piccola è giocata ad Asteroids che è il giochino quello con gli asteroidi se li continuiamo a perdere e quindi adesso il dvd vale la pena? ci vuol dire che l'hai già visto? e questa condam fa anche il favore di... ah, grazie vediamo se ha scelto un bel casco almeno le dvd oscure non in dotazione eh, ma allora se la metti così una dropship non l'avevo sono due giochi su Steam che si chiamano Asteroids che si chiamano? Asteroids beh una è un FPS e su tutti i grandi schermi della Lappogna e della Giappocina allora ma guarda se è un film trash potrebbe anche andare chi cazzo stai picchiando? una dropship siiii certo una dropship no? no no circo vedo che stai sparando i beam completamente a minchia però vedo un puntino rosso che deve essere incazzato che è una federal dropship che è a 7 chilometri e mezzo da me che rosso ok questo mi interessa già il re dell'asteroide autore sconosciuto probabilmente l'ho scritto io mentre dormiva non lo so un bambino che vive su un asteroide un robot con un braccio solo una misteriosa bambina che racconta tutte le storie del mondo non lo so la dropship è rossa perchè ho i colori modificati Lucchino ah ok sarebbe il tuo viola provo ad andare contro vediamo se corso per conquistare gli asteroidi io sto dropship non riesco a fargli danno sconosciuto ma di nuovo ho tentato di rammarmi io la vedo qua ferma che sta sparando no tu sei lontano te lo dico io va colpissi almeno con un cazzo di cannone e invece il pezzo forte l'ho tenuto per ultimo oh oh no no ok quello non lo apro neanche quello non lo apro neanche gli posso togliere gli scudi ma lui non gli faccio male no quel link non lo apro non lo apro quello mi dispiace mi sta maciullando sto dropship io non so che cazzo farci potessi aiutarti ma non gli faccio male cioè sto continuando a sforrargli col cannone e il cannone continua a non colpirla ma neanche a pagarlo ah cosi almeno posso ottenere i cannoni gimballati posso ottenere un po' quello e poi la testa dici ah e potessi aiutarti l'uchino ma non posso non non lì per posso fare una domanda quando è a me o al lukino non ho capito scusa ah a te fai 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 ne ho comprato quindi metti una decina d'anni fa già e mi è piaciuto mi è piaciuto gioco dove ci sei tu la pista e il cronometro punto anche in multiplayer ma a me sembrava tanto difficile cioè i circuiti sembrano strade pc sembrano facci l'abitudine e poi se sono delle cagate chiaro non tutti qualcuno comunque rimane complicato ma perché è volutamente complicato mi sa che siamo appunto desincronizzati lucchino comunque mi sa che sti cannoni andrò a cambiarli a una velocità che non è idea e di trackmania comunque stavo aspettando trackmania turbo che dovrebbe uscire il 24 marzo mi pare boh io sono più per i giochi tipo tipo mario kart e ma perché è un altro tipo di giochi comunque e sempre corso si corso in maniera diversa però c'è lì che ti chiede come stai lucchino male è solo lì che bestemmia contro una nave sono al 65% di view se volete poi faccio anche qualche live trackmania anche su quello che c'è adesso e non quello che deve ancora uscire così vedi come così vedi come no scegli il crocino ma per me tanto oddio ci gioco la trononia no il cazzo di niente i cannoni a un cazzo sarono noi ti vogliamo a piangere su to the moon su to the moon o to the asteroid to the moon 3 asteroid però il gioco 3 asteroid fisicamente col mal di testa ragazzi io vi saluto che vado a studiare 10 minuti su skype è un piacere ciao io buono studio ciao ciao punto se non fosse per il multicanon a sto clipper non farai un cazzo fantastico i cannon guarda cioè sono scandalosi lo stai puntando a power plant? sì perché quelli dovrebbero essere più efficaci contro quello il problema è che non colpisci neanche la nave ma strano io non ho avuto problemi con i cannon e al 3% gli sparo e lui l'ho colpito stavolta e anche stavolta oh un chiave da riparare e a cambiare sta merda di... mi ha dato i soldi anche se non lo... oh che fantastico fantastico madonna troppo rage putta ma sono ridicoli i cannoni ah fisicamente no 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 è passato tutto a post front assist front assist oh mio dio non faccio un tubo da solo sono parecchio duri sono parecchio duri sono parecchio duri ma come in molti la power plant sono più... c'è sì 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 però non 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 si non non c'è l'altro? ah cosa? vicino a Lembala Lembala da che riparo a Lembala? io sono venuto Lembala poi il venerdì vado di solito vado dai voli che tanto non è lontano quindi si è appiccicato mi pare fosse 70 mi pare fosse 70 mi pare fosse 80 quindi se vuoi anche fare cosa o no più 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 ok no 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 mi guarda mi guarda mi guarda oh frenà oh scoppi 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 bravo scoppi scoppi lucchino contro gli eri io contro gli asteroidi più o meno funziona così sì 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 anche se oggi sono stato bravo non ne ho preso nessuno sembra strano ma ogni tanto succede no che palle non c'è outfit in questa stazione di merda e poi fai un salto fino all'embao di ecuandri eeeh minchia del tour vediamo se c'è qualcosa qua scusa sono tutti inandabili i pianeti ma urnaro gateway ed e per questa non è lì lì no ci sono delle cose qua oh shit dicevo che non avevo preso ancora nessuno ma con questo ci sono andato ci sono andato parecchio vicino e se gli alieni stanno sugli asteroidi Lucchino sta su Reaper eeeh piuttosto scappo guarda che busto ma non ti dice sui sulle stazioni ah no che incomodi si vado a martinez rich intanto mi serve un'arma a2 non mi serve l'arma a2 perfetta ho anche una a1 non è che beh adesso i cannoni dove ce li ha adesso sul 1 sul 2 2 spara i chat vai vai sparali tutti guarda che ci ha provato a spararmi coi plasma sta non è arrivato il messaggio eh che messaggio per il 4G 3G aaaah lulz aia aspetta eh ho visto che hai scritto Elite aspetta solo un attimo che qua sono un po' un po' malmesso quando hai scritto solo l'errore voluto vai contro un asteroide che cazzo stai facendo? chi? tu! ho aperto una cioccolata e mi sa che tanto ti farò compagnia un attimo andare a riparare sai perché leon non mi sparare i chaffi leon mi spari i chaffi leon mi spari i chaffi leon mi spari i chaffi un pochino scatti ogni tanto il video si Isa e Isa lo senti da lì lo senti l'audio e chiede e porco Giuda si ma adesso hai un personalmente fermo provo ad andare dentro di giù eeeh scappo solo un attimo e provo a vedere se c'è qualche problema aspetta minchia le cartelle che mi stava dando ho visto ma OBS non mi segna problemi da zero frame droppati quindi dovrebbe essere a posto dai leon per favore vieni qua guarda leon guarda leon guarda che cosa sta facendo leon e fa un po' mi slingua ah dai nooo gatto curioso ma non sarà anche lui? se mi fai anche ovar shottare no se mi fai ovar shottare ti taglio le orecchie ma che stronzo l'ha fatto? si qualcuno non vuole più le sue orecchie non vuole più le sue non vuole più le sue e non vuole più le sue eeeh 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 colpa di lucchino no ma lo sai che hai detto? vado a mangiare com'è cosa vuoi? non ti do niente no niente ah vabbè no non ti do niente no eeeh vuoi si si io no ci ho mutato e perchè sei brutto ma tu ti amo per cazzo adesso non urlare chi ha detto dopo eeeh ce la farò fare una roba del genere? l'avessi fatta un po' più dritta no io sono qua al quella lì ma tu devi solo preparare? si 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 e bene o male lì ripara anche c'è lei leon tu vai alla torretta di destra solear tu la torretta di sinistra si e ti fidi? minchia mandagli una foto leon par colpa tua abbiamo finito il glide a 55 km sapevilo eeeh ship released ship released landing gear retracted oh ufff ufff è arrivata la foto ho sentito penso che si ok ci sono i gatti che spuntano ovunque 4 3 gatti conquistati 1 engage 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 se magari accelerò anche un po' io ho fatto 20 km nel mentre mmm per colpa tua leon è colpa tua colpa tua colpa tua dopo tagliamo le orecchie così diventi bruttissimo guarda che brutto io senza le mie orecchie meglio di nuova se sei già brutto di base penso senza le orecchie ma dai è aranciata che schifo oh che palle quando i segnali i resti sono dall'altra parte del pianeta devi fare il giro cassetta della post della post decorazione sembra sicuro non come l'ultimo ma sto tizio sta recuperando praticamente la stessa immagine ci fa di tutto di più e la stessa del portachiavi di prima probabilmente ne ha fatto appena chiesto il docking ha fatto un'immagine bella adesso la vuole sfruttare per bene probabilmente si tu è l'asteroide si è stato parlando no no che adesso a quanto pare mi voglio diciamo che gli asteroidi vanno di moda in chat adesso mi vogliono mandare un po' di roba con gli asteroidi setta della posta decorazione immagine mmm però per 60 euro una roba del genere ah sarà mattina scusa più spedizione ah beh beh e vai subito un'anaconda così oh mio dio ci sono quelle pietre volanti nella stazione adesso faccio vedere si chiamano asteroidi no no non so se si vedono no no aspetta prima di cominciare la conda con l'ultimo link space miner wars pilota la tua astronave inesplosivi attacchi tra giocatori pilota la tua astronave inesplosivi attacchi tra giocatori vabbè ma per fare questo gioco elite faccio prima 3d sistema solare per bambini quello è piotato la ripa inesplosivi inesplosivi dici eh e vai qua adesso comincia la sessione app ah no è già finita wow che figo quello della planetonia è figissimo isa ti si sente due volte eh so che rientra da probabilmente oppure la voce della vostra coscienza sta parlando che coscienza di merda te la sei cercata proprio tanto la conda non mi prende eh eh due isa nooo e ricordo che il mondo uno è già fin troppo non dire cose di cui potresti pentirti ma perché devi buttare via bambini? non andarlo si sono in 3g eh dove è una presidencia è una spawn lap o non si fa cosa fare? mezzo sito too much spa isa for president eh anche questo non so anche per questo anche per questo questo è un mondo che trovo asteroidi alieni complessi celesti scienze appena salta in aria quest'anaconda guardo eh 282.000 sti cazzi eh brutta scienza asteroidi alieni buchi neri altri complessi colpi celesti 80 euro nope un'altra conda? un'altra conda? yeah Dean Joseph Turner o Salford minchia è un importante questo però però non guardare a me guarda 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 un'altra parte non ti faccio male è solo una puntura non ti preoccupare forse cosa forse? forse raggiungo l'impato un po' sempre se non sminchia la nave 0.15 sta un'altra una un'altra Yeah non Bello! Cosa Isa? Ah, crescita! Sto cercando di regalarmi uno dei suoi tre monitor Dei suoi? Tre monitor Da che lì vuoi regalare un monitor? Eh, me lo stavo chiedendo anche io Ma alla fine non è che sia noto sta roba Se non è ancora lì con sta... E' la seconda anaconda Sto aggiando la friendship drive Aspetta, aspetta, Elite che sono indietro di due link con quello, aspetta! Vediamo se indovini che armi ho montato Fammi immaginare Pulse e Multicannon No Once you pop, you can stop Oh kids! Ow Ok Si! Si! Bah, devo ammettere che... Quello di quadri che pensavo ha postato lì più No 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 Aspetta, gli faccio partire la power plant e guarda Eh, gli ho segato la power plant No, no, non ho saputo... No, non ho saputo... Non più Lampada asteroide e... Una pro ship Quella della lampada asteroide... Oltre al nome non ho ben... Sembra qualcos'altro ma va bene L'unico autentico goldrake televisivo L'unico autentico goldrake televisivo Ok Allora, vedi la drop ship Si, 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 si Cosa ho messo? C'è una delle torrecche? Si C'è Ma c'è il bar tutto da almerato Ma c'è il bar tutto da almerato C'è il bar tutto da almerato Videogioco di asteroide vinile adesivo? Bellissimi... Bellissimi vinili per... ...il muro In pratica mi vogliono ri-arri-allare la stanza qua, eh? Oh, per ora... ...plontisist Oh, per ora... ...plontisist Oh, cazzo Plontisist Emel Te l'ho rallentata un po' io allora Prima che è veniso da te Plontisist 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 Sono già 86 E' asteroide mancherà la... ...la terra per un po' Prenderà ripa in pieno invece No, perchè sei tu che hai deviato la sua tralicua Si E' rimbalzata sul mio testone, no? Colpa di testa, punk Mi vanno giù gli scudi ogni... ...combattimento figo Molto bello Fammi un po' vedere sti vinili Python Deadly Wanted Belli Si, li stavo già andando comunque addosso a quel Python Mi ha già tirato i chaff Fantastico Ma hai già iniziato a sparargli? No Ho cominciato a scannarlo, ma qualcun altro ha cominciato a sparargli, vedo Io Io no Adesso si Adesso anch'io No Le macchine che appiappurranno le... No, è vero La Power Plant dovrebbe morire a breve... ...andata C'è un Asp che mi sta per inculare... Eh, no, ci siamo passati vicino Che vale la stessa cifra, ma... ...dorrebbe essere molto più semplice, no? Rispetto alla Drop Ship Rustle Ship, scusa Ehm... C'è anche il 30% di U Sì, perché non? Eh, piuttosto fatevi un canale a parte, così a meno... Ehm... Vabbè, ma... ...che attimo dire... ...andate con la chat No, vabbè, ma così è comodo e veloce, no? Intanto possiamo fare tutti i canali che ci pare piace Ok, la Soul Ship adesso è tutta altra parte Sei mossa? Eh, sì Sera sono appena arrivato e sento già che persone che inculano persone Cosa siamo? In Parlamento? Magari! Quanto cazzo lontana? No, non tanto Ti sei solo perso un po' di link di roba con gli asteroidi che vogliono farmi comprare Bambino il po' di link di roba con gli asteroides Sera... ...in attacco Quanto attacco Lontana... ...non tanto Lontana... Lontana... ...in attacco Cosa cazzo hai visto? Scusa, Diego? Mi sono perso un pezzo nel messaggio di Diego? Aspetta, c'è un clipper. C'è un clipper al 60% senza scuola. Cambio di rotta. C'è un fottuto di 9 che mi è passato a 2 mm. Costiamo una volta. C'è un casino paura. C'è anche un fratto. Perchè ti sei girato per sparare a me? Clipper di merda. C'è un'immagine che parla di quello che abbiamo detto oggi su Deadpool. E' fichissimo. Non so, vado a vedere. Sul pupelle, non Deadpool. No, gli ho detto che forse all'inizio si dilunga un po' troppo sulla storia, sulle origini di Deadpool, però poi comunque è meritato in ogni caso. Sì, 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 sì. Forse non è una cosa furba. Facciamo la ferro. Ok. Vero. Ok, 5 Pulse Laser. Mmm, sarà tutto divertente. Sì, ho visto. Ah, quello dei titoli di coda. È riuscita Isa dalla chat vocale o...? È riuscita la chat vocale, Isa. È riuscita la chat vocale, Isa. Au. Ma che cazzo? È? Pronto si sta. Noooop. Ok. Quanto guardi la gente che esce dalle sala appena fanno i titoli di coda, ma tu sai che è dato il film Marvel e ci sarà una scena appena finisco i titoli di coda. Da noi, veramente, ripeto, così almeno ci presentano anche loro Quando noi siamo rimasti lì, c'erano i titoli di coda, saremmo stati noi tre E altre tre, quattro persone Un pochino Sì, più o meno C'è una spa, 6% Sì, li sto già sparando Che poi anche nei titoli di coda c'è proprio Deadpool che dice Non sporcate, lasciate tutto decente Sì, buonanotte, doveva dirlo all'inizio del film quello Visto lo schifo che qualcuno ha lasciato Però Allora, c'è un clip Una gunship Il clip apri vicino Guardi, il clip riporto la gunship Io avrei anche un disparato, ho bisogno di ricaricare un po' di scudi Io salisco da lo scannato, grazie, ricordo, senza minchiare Il clip vale 62.000 scannato 88.000 scannato Ok Cambiato nave, sì La dropship dopo le botte di oggi voleva un attimo di pausa E se le meritate La serata libera Chi sono in mezzo? C'ho una torreta che sta scherrando come una bestia Comunque Dimmi, hai quasi tirato una tega che non ho una idea Le ricambi le armi? Mettendo tutti i plasma Spara pallina rosa? Nope Mai più Questi di scarsi risultati che ho avuto mi sa che non lo farò più Io prendo il 20% con due plasma 2 Sulla Viper C'è Ma è stata una volta più piccola E non vuol dire La prima volta più piccola Non è venuta più piccola Non è venuta più piccola La prima volta più piccola La prima volta più piccolare Quanto all'uno e l'uno al tre è morta. Sì, magari con altri canno laser di livello più alto. E il problema è che lì non ce lo posso proprio mettere il robot di livello più alto. Perché si dividono proprio in base a dimensioni. E quella era già dimensione massima. Per quel posto, almeno. Ho perso il clip perché stai puntando. Ce l'ho io, ce l'ho io. Poi c'è anche una conda. Poi, prima vorrei dire che c'è anche una conda. Ah buono, l'abbandoniamo quel pirla lì, ok? Eh beh. 112.000. Sto postando in mezzo agli asteroidi, infetto a Sistos, aiuto. Un'azione degna di me proprio. Ok, io l'ho scannata. Prenditi l'anaconda che vai tranquillo. Ci metti tante di quella potenza che ha impalidire l'esercito russo. E nordcoreano, aggiungo, così. Io sto, no, facendo bacino molto vicino. Però il brutto dell'anaconda è che poi è veramente troppo facile. Troppo. E' quello il problema. Ha dimenticato gli asteroidi. Non puoi dimenticare gli asteroidi. Madonna, ho beccato la rara quando infetto il sto. Eee. Col plan. Anche se non è potenziata, no, è già così, è qualcosa di facilissimo tirare giù tutto È proprio la nave in sé che ti permette di sbattertene di tutto Tu spari E amen Cane è più critica? Oh, c'è dei problemi di aria Eh, allora aspetta, ti faccio fuori la conda veloce che tanto è ferma Tanto io devo andare a fare il fornimento di munizioni a breve Ma quindi non puoi spostare gli asteroidi scagliandoli contro la terra Ha ha ha, morirete tutti Ha 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 Quindi vai a ripararti un attimo tu o... Eh, io per forza E allora faccio Che andare a rifare i fornimenti Non è ancora raggio train 2, 1, engage La conda non ha ancora raggio traente per spostare gli asteroidi Tutto rotto il vetro Beh, però se ci vai addosso contro probabilmente gli fai già... Non penso che siano spostabili gli asteroidi, sai? Ma se con la conda è così facile, la nave a cui stai puntando a te che costa il doppio Sarà ancora più facile, allora quella che appunto io non costa il doppio, costa solo una trentina di milioni in più Forse anche meno E probabilmente non so se sia più facile o meno Perché le armi comunque sono più o meno quelle Quindi circa non dovrebbe essere così tanto diverso Però... sì Però non ha due uge Sì, ma al momento verranno trattati come due large Non gli metti plasma? Eh, effettivamente No, sei il peggio se non metti plasma sull'armi No, no, no Poi tanto neanche posso prenderla, quindi Ma hanno tutto il tempo di far uscire le nuove armi giganti Allora dovrebbero uscire con la prossima? Ehm... dovrebbero uscire con il coso dell'engineer I soldi li hai? Ti manca il grado per la nave? Sì Solo che è una roba indecentemente lunga e noiosa da fare Quindi non lo faccio in live Un giorno che ho voglia mi metto lì Mi apro Netflix, faccio tutte le missioni che riesco a trovare E via Sì, quello sì Come diventare Elite Come anche diventare quel Combat Rank che adesso è Deadly al 55 E farlo diventare Elite Esattamente E non mi è salta Avanti Oh, fai avanti Giù Dove andare di notte e poi passi tutto il weekend a casarti della nave nuova Ah, quasi quasi Vabbè, un milioncino di soldi Vale, timbolo l'ho già guardato, non c'era un tubo Launch Sì, poi tanto se faccio Se mi prendo la nave che voglio lì Vendo l'anaconda perché tanto non me ne farei più un tubo O almeno gli vendo la roba Che ha installata Sì, questa è una cosa piangendo Sì Il portachiavi con il sidewinder Ci sono i portachiavi con il sidewinder Sulla store Ci sono le cose con il simbolo di Elite Il portachiavi con il sidewinder non so mica Fammi un po' vedere lo store Mi sono craftato Alex Traso Scusa? Non lo dicevo a vita Cos'è? Come al solito No, ma guarda che potrebbe ancora starci Aspetta, fammi vedere Ci sono quelli con il simbolo di Elite Con le navi non mi sembra Ah, ma adesso guardo Però vado con la maglietta pirata C'è una maglietta col teschio della tua penchop? Sì Col teschio rosso Non bianco Che forse merita anche di più Perché sembra veramente bella Si, ce l'ha, vero? Sto per droppare Quindi se vuoi mettere il... Sì, sono qui Ci vuoi Allora, ferma un attimo Vediamo Aspetta solo un attimo No, non ci sono Non ci sono proprio portachiavi Mi sa che è in wing Ci sono o i ciondoli o gli anelli Ma solo con il simbolo del gioco No, sti cazzi Che giolo E l'anaconda Excess Gaimurs In wing con una soul sheep Con una soul sheep That shit Ho perso l'anaconda Vai Non ti lascerò solo Non ti lascerò solo Non ti lascerò solo Ho solito Ho solito il gioco senza scuole Sì, li sto già sparando anch'io. Ah ok, mi hai già saltato agli scuri. Stanno tutti provando Romance, bastardi. Sì. Capisci che sto accesso è più facile di una Viper. Ma non di un courier. Ma, secondo me perchè, guarda, se non riesco a metterlo in mira per sparargli. Sei già rotto? No, non ho più. Non sono ancora riuscito a sparargli con Iper Plasma. Minimum ha già attivato. Flunt assist off. 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 Vai 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 che non dovrebbe tardare a esplodere. Adesso devi ricaricargli il Multicannon. Minchia la rammata. Ok. Adesso c'è la Conda che è già senza scudi. Io sul gioco 46% di ruolo. E allora, dagli solo un colpetto che gli segua la Power Plant i più velocemente possibile. Vado a non scarzare neanche. Tanto se muori pazienza, ma. Esatto. Mi ha tirato i chaff. Brutta merda. Che poi non me ne frega un tubo perché il burst tanto ce l'ho fixed. Però è per lo scan che... Minchia sei incazzata. Eh vabbè, il Power Plant mi ha sfaccio. Mi stanno demolendo. Ma si ma non ho capito. Cioè, mi hanno aperto in due. Come se non avessi scudi. Come se non avessi WF. Ma non è mai capitato. Ok, la Naconda dovrebbe essere più tranquilla. Cioè, a te non hanno ancora fatto un cazzo. Io non avevo da buttare. Non puoi vedere se è tutta sminchiata. Con calma, 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 calma. Eh, abbastanza. C'hai... alla tua destra dell'abitacolo che è tutta sminchiata. Ma proprio tutta. Se te la prende Diego è come ferro vecchio se vuoi la nave. Sotto com'è messa? No, sotto è intera. Sotto è intera? Fammi vedere io che c'ho le luci. Sotto è a posto. Ma tranquillo, disbatta scratch. Se vuoi c'è un Asp che è mezzo morto. Ma magari no, vado a mettermela in quadro un attimino e... E solo un graffio. Ah, ma me lo vado a sistemare. Fai il grosso e poi... Non ho capito come mai... E mai le gunship e le astroships o no? Qualcosa di indecente. Sì, ma... Gli altri ultimi che siamo venuti con... Magari ho sotto la lightweight? Boo! Mi fa sto domandolo, ok. Ho un procusto. Cosa ho chiesto? Ehm, io... Ehm... Cosa lo ha fatto, mamma? Ma si può sentire. Allora... Ehm... Ehm... Ha fatto questo, ma... ...diccio il booking, l'olio alla sedia di isa però mi piace ma sei su discord o no che è quello lì che se le sta prendendo tante così disarindicativo come no leggevo la chat domani sarà metto i cosi i trappettini morbidosi sulla sedia vai vai perché da un po' fastidio ai gommiti i tappettini morbidosi vorrei far notare che sto ancora saltando ancora? si sono uscito e qua non c'è più un caaa o hanno una paura fottuta di me e rido già da solo figuratevi oppure stanno tutti andando a cercare dai qualcosa di grosso qua una bella conda un python no lo evito lo evito si no luce accese come vedete le luci non fanno un tubo se non a distanze urca pensavo di evitarlo ma i cattivi sono spariti tutti sto andando a conoscere porca puttana stai andando a conoscere porca puttana? ah di piena età vicino all'embaro mi devo preoccupare l'ho centrata in piedi ma io gli piazzerei un bel cipino per il gps eh isa chissà dove va mi piace uno gopro in testa e ma la gopro penso che se ne renda conto ehhh dipende da quanto affondola in chiodi sul tetaneo poi magari vedo tutti gli animaletti stico ce ne ho mind 3 clipper qua e io sono al 29% di ula e cosa sto toccando e cosa sto toccando 3 clipper però sono pesanti da solo tu seguili infatti lo sto facendo a momenti si schiantano tra di loro ma vabbè sono guidati da scemo più scemo e l'altro scemo visto che sono 3 e ma non se le danno rimangono lì a fare robe dispiace t9 ma non sono in grado di aiutarti i clipper stanno sparando a un t9 però il t9 sta per esplodere oppure posso fare il gigaiolo che ci metto già una vita a farne uno di t9 da solo dai lucchino sbrigati ho bussato a 3 km dalla stazione non so neanche se entro si entro si frenerò in tempo iiii 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 e vabbè che palle mancava mezzo secondo per finire la scansione che cazzo c'è questa vibe perchè non va e tanto qua sti clipper fanno i grossi e poi non attaccano nessuno allora andate a farli fottere mi sposto qua sono sicuro che ciocco un asteroide perchè non si vede niente eccolo lì che ce n'era uno nop bello svolazzare dagli asteroidi però con una nave che effettivamente riesce a guidare senza schiantarti perchè non gira una gunship non c'è non c'è non c'è non c'è dalla tastiera da lì digitiamo che domande e secondo me la gunship c'è qualcosa di strano con l'agilità ok ce l'hai sempre puntata di fronte perfettamente o è solo l'agilità bot che li aiuta troppo? lì 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 da lì 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 Va bene così Gli eroi hanno provocazioni Si No ma che palle bisogna farsi un mazzo No ma si batta Si Diego non ti sei perso niente, ti avevo risposto con la tastiera Quindi forse è meglio che Eh che missione devi fare? Eh adesso ti lo dico aspetta Quindi semplicemente ti ha bafferato su una puttanata Non ti devi preoccupare No siamo dalle parti di Cuneo In Piemonte Non sempre Neeee Quindi dall'ora in poi andranno in giro Ah ho conosciuto dei tipi su Twitch Quei cogliani di Cuneo Ok 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 Si 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 Ok 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 Più 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 Ah c'è uno di quei clip perché è mezzo morto Però non sta facendo perso Oh mio dio i saltini per spazio non farli ripa Ci sta mettendo una vita Sono fucking rotti Spam è riduttivo Scrappy Spam è veramente riduttivo Di quello che mi avete elincato No Isa tu te ne sei perso più di mezzo Ha avuto voglia Ha avuto voglia A rincollare roba Aspetta recupero un attimo la lista Tranquillo Io forse fa qualche anno arrivo Tu credici Sì ci credo Finici? Dai va No 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 Blocco note No 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 Oh ma che palla Ok io mi sono salvato tutti i link adesso che mi avete mandato Tutti E poi vediamo cosa Se mi ero perso qualcosa perché magari Con tutti quelli che c'erano Qualcosa me lo sono perso sicuro No non posso Ora so come sperperare soldi Sì Sì Oh un python Una lava un po' grossa Da sola? No un asteroide in mezzo Oh Corciuta È clean Tecchio Diego penso che dicesse a me come sperperare soldi Poi seguiti passi su tutti i link c'è l'ioe Non è un problema Nell'immagine di copertina del canale chi è il nero? Non mi ricordo neanche cosa abbiamo con immagini di copertina sai? Dovrebbe essere Nando Non è un nando col? Sì Non lo conoscete Non viene mai È timido No è un pirla di adesso Sì Nando Sei un pirla Sì Per quando gli manderò il link al video Nel che questo canale l'avremmo già fatto una vita fa Flight assist on Eh c'è una memoria di M Eh No è che c'è un cervello piccolo Non so dove mettere la roba Allora Tipo adesso l'ho sentita Puoi fare un po' la concella perchè non c'è più spazio No aspetta Cosa vuol dire che non ti ricordi l'origine del nick? Di Reaper intendi Si del mio Si si diceva del mio Ah non quello del canale Ah ok No 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 quello del canale si mi ricordo Quello del canale è difficile dimenticarsi Eh Tutte vie Quella del mio è stata una vita fa quindi neanche proprio non mi ricordo Però era quello ormai mi andava bene Sto a partire da una tega alla stazione di quelle che mi ricordo tutta la vita No E invece? E invece guarda lì sono passato due millimetri Gli tira più forte E sposta la stazione così a me non arriva giusto Dai dimmi che tu me sta minando Dai non c'è più un cazzo Vabbè facciamo un giro la stazione a sto punto E allora buonanotte Buonanotte E allora buonanotte E grazie per le serattine figurati Per sparare minchiate Noi ci siamo Buonanotte e buon lunedì mattina domani Che brutto! Sono qualcosa che non vai, Salva. Ma io sono andato in supercruise istantaneamente. Si, prova a saltare nella rimbara. O prova ad andare a vendere le taglie. Stand by. Provi le le taglie nella stazione? Si, ce l'ha fatta. Edith, allora c'è perché Andonis era su Diablo. Se c'è ancora Edith, perchè... Ehm... Da Ersten è andato via. Ehm... Aspetta di scrivere in chat... Ehm... Aspetta di scrivere in chat... Gli scrivo in general... Ehm... 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 Beh, non è neanche su... Discord, quindi mi pare che... No, poi magari regge poi. Oh, si! Ma sei la stazione, potevo usare Beacon? Non ci ho pensato. Potevi, e invece no. Voce riconosci... Voce... Voce femminio riconosciuta, richiamare saluto salve Isa! Ehm... Quindi non mando più nessuno ai Crash, tì! Aspetta che... Non è mica detto! C'è sempre tempo! Potrei fare una guata ribba! Ho paura! Tanto mi pare che ormai hai capito quale è il mio landing pad! Eh... Sono a 6 km. Ok, allora non ci arrivi mai più! Neanche volendo! Non vedo una buccia! Ok, fai pure tutti gli agguati che vuoi allora! Mettono di refuel! La cosa importante è che porta sfiga! Sì! Perviso! È crashata lei, vedi? Qualcuno doveva crashare! Ma perché porto sfiga? Perché porto sfiga, volevo dire? Non ho fatto niente! Hai pensato ai PC che ti ho fatto vedere oggi? Guarda! Ti interessa fare un rock clock? Se sì, la risposta è facile! Se no, la risposta è facile comunque! In base a questa risposta che mi dai, o sì o no? Nooo, ma ho fatto 500... Di... 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 Che altro mi sono... Ero lì che guardavo i contats e vedevo tutto azzurro! Matta! Che cazzo! E ti sei preso anche una multa? 500 Lolololololò Sono... Donutkinate questo e nai! Perché hai fatto merda, giustamente! Sei brutto! Non ti vuole nessuno! Ma scassatemi il cazzo, va! Fatemi entrare, se no mi ammazzo tutti! Mi ammazzo tutta la famiglia! Aspetta che scappo, va! Non c'è posto! Ehi! Eh, ma ho fatto... ho venduto delle parti che... Vorrei averti lasciato a posto mio, adesso! Ero il due, no? Allora... Ero il uno! Eh, ossia, ho qualche milione extra perché ho rimesso a posto la dropship... Solo vendendo il generatore me ne sono fatti tipo 10, quindi... Sai com'è! È abbastanza semplice così! Sei riuscito a toccare o...? Sì sì sì... Tre pezzenti, prendetevi questi 500... Non mi scassate il cazzo... Magli tu, ok! Io... volo come voglio... Chiaro... BOOST! Di BOOST! Cosa ti faccio?! Sì! Ho anche preso 170 di multa Ma regla è abbastanza... Mario! E' una nave che muro! che fa il turbo che merita e se l'hai preso in piena faccia peccato che attaccato alla stazione non si sarà fatto nulla poco meno di 400 arriva non è che faccia proprio poco dopo il 98 però la milita di Katsuma si va anch'io si? chi se va? allora si sta avvicinando o forse è già nell'ombra ed è continuo a essere no non è nell'ombra ma neanche è morto ma è sempre dietro pianeta sto coso eh guarda beh ma giusto dove è dietro dai adesso va bene proprio sul più bello bu... no ti ha buferato proprio lì? nooo è colpa di riparo fa apposta perchè così vi siete obbligati ad andare su youtube a vedere il pezzo che vi manca e lui fa visite io non noi io no infortunalmente e sei tu che hai il conto in banca collegato a youtube che prendi le cartelle di soldi che facciamo si 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 sai com'è quei centesimi ci campo che poi non è neanche attiva la monetizzazione quindi è proprio neanche questo ma nooo anche perchè ci chiediamo di attivare la monetizzazione ci dicono ma siete scemi si probabilmente non possiamo neanche farlo sai perchè non sarebbero... non mi conviene neanche attivare in teoria forse non possiamo neanche sai perchè facendo video così ho fatto un errore eccolo lì dicevi che qualcuno crashava? eccolo anche te sono io sono ancora dentro tranquillo che c'è un python in wing da 3 una gunship? io non so se sono lì vedo un wing signal di nessuno e sono in living wing nooo cosa? sono a 11 km dalla fottuta staziale pazzata hey anchorman aspetta non ti arriva l'invito non ti arriva l'invito perciò mi è andato ma non c'è brusca molto bene se fai merda ehhh ogni tanto non mi ha messo a 11 dalla parte opposta della stazione neanche dalla parte giusta fuck qua ci sarebbe un lololo di quelli galattici ci pensi tu Isa o? no che manda lì sta m***a di m***a è stato sì in openplay o no? tu sei in main menu adesso non è vero boys secondo il mio gioco si però puoi evitarmi? non posso ancora f***ci 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 ahhhh quando ci sta quando ci sta ci sta grande Diego ti meriti un pollice alzato wow sai cosa ho scoperto Isa? ctrl 1 o ti mette nel chat su disco? Control 2 e ti mette su un canale? Ah, io! Cosa? Sono potente eh? Mh mh! Mh mh! Mh mh! Mh mh! Intanto mi faccio un'anaconda eh? Così, tanto no! Perché ci vuoi bene? Oh, anche noi ti vogliamo bene! No, quello no! La correzione no! Quello pare che lo voglio assolutamente! Ah, lead, lead, porca Eva! St'anaconda mi sta prendo gli scudi, grazie! Ma sti chaffi funzionano o no? E infatti ho perso gli scudi, quasi! Fag di shit, I'm out! Shield offline! Fantastico! E vai! Ok, ho capito, facciamo un cambio nave, va! Il curio qua mi ha già un po' rotto! Ma Eva, cosa stai facendo? Cigola la sedia! Ma stai guardando lo streaming? No? No, lo spendo! Perché? Eh, non lo so! Oggi ci sono i server di Twitch che sono in migna! Ehm, oh, ok! Ce l'ha fatta a pari! Però non mi si comenta i server! Fag di shit! Ehm, oh, ok! Cato non si ubbito, eh! Che ne avevi intenzione di prendere? Vediamo! No, effettivamente a saltare verso l'Embrava ci sta mettendo un po'! Eh, ma secondo me c'è un po' meno i server! Infatti a me è partito il gioco ma non si connetterà ai server! Quindi, faccio un po' di telastone e fag di shit! Faccio già anche le undici! Scusa! Eva, ti devo rompere la faccia! No, prima voglio fare la... Status! No, ma di server status è ok, però... Issues Detected! Ah, sul lancio o...? No, dal sito proprio! Ah, ecco! Dai, allora visto che sono da solo e Diego vuole l'anaconda, prendo il sidewinder! Eh, ma probabilmente stanno avendo dei problemi coi server, probabilmente... Anzi, togli probabilmente stanno avendo problemi coi server! Non so che genere di problemi! Vediamo se sul forum dicono qualcosa... Tu rallenta intanto! Che bello avere due monitor! Puoi fare il cazzo che vuoi su Elite! E comunque vedere... Ma stai facendo la R6? Allora, Stupid server! Fantastico! Mole, torna! Sì, 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 sì! It took me 32 years... Il fantastico numero scritto... Letto in italiano, va bene! Ah, ma questo non c'entra un tubo... Fantastico! Eh, il server comunque è tutto online! Quindi, sì... Se hanno problemi sui server, anche da solo comunque non riusciresti a giocare, purtroppo! Perché dicono che comunque tutti i dati sono sul loro server! E quindi... Succhi in caso di... Problemi! Allora, quello non lo leggo così almeno... Nessuno sente! No, no, no! Non voglio droppare! Non voglio andare sul pianeta! Voglio andare qua! No, al momento c'è solo un thread sul forum che dice... Stupid server! Sì, ma quanti posta già? E più che altro non è neanche su quel problema, semplicemente dice... La prima missione a lungo raggio che faccio... Da mesi... E server clasha! Ok! Sette post, comunque! Non so se include anche il... Scamato! 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 Di là! Problemi logistici... Un attimo! Il tempo di capire da che parte ero girato... Scamato! Il 13! Fermo lì! Minchia il parcheggione questo! Allora... Deload... Repair... Refuel... Contact... Ci sarà niente... Infatti... Shipyard... Vuoi la Conda? Conda sia! No! Storage Ship! A venderla mi danno 170... Poco meno di 179 milioni... La Conda! Ehm... 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 Vediamo sui gruppi su Facebook se... Lavorranno già intasato a bestia! ehm... Che armi c'ho però qua? 4 pulse e 4 multi? 4 pulse e 4 multi? Perfetto! Bla 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 bla... Oh, se bello, volevo fare una cosa prima. Name Ascending... guess... C'è Serain... Sembra dove sto realizzando naked. ora è solo così oppure non ho un cavolo da spegnere ok, stavo così Launch vediamo se con i server un po' sminchiati allora ce la si fa più che altro ma non può abbiglia e vediamo perché a questo punto non assicuro nulla giù, giù, giù loitering is punishable by death, ok si perché sono simpatici a bombazza sono simpatici il culo mi vuole dire poco ora sempre se riesco ad arrivarci per questi problemi server ma sì 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 questa nave non si fa problemi a meno che siano cinque clipper incazzatissimi come delle iene no 3 2 1 engage Sì, è vero! Vediamo se intanto sono spuntati altri... Altri thread? Problema con i servers oggi? Eccoli, cominciano a spuntare, cominciano a spuntare! Lo sapevo che ieri dovevo portarmi l'olio e mettercelo io perchè... Lulz! Alla cernandocca... Sì! No! Allora, fino al... Al sistema ci sono arrivato! Vediamo la stazione come... Come va! Tu scherzi ma quando cominciano... Stanno avendo problemi così... Pieno di gente che rompe il cazzo! Oh mio Dio non cazzo che gioco di me! Come faccio a dirgli... Stupid server ha già raggiunto 31 replies! Scusa, vai pure! Oh, niente! Oh, interessante! Cosa? Come faccio a dire Windows... Che... Lo schermo in mezzo al primario... Ho messo... Ho tolto i finiti! Dovrebbe esserci proprio nelle proprietà dello schermo... Dovrebbe esserci proprio... Imposto come primario! Il problema... Sì, io l'ho impostato come primario! Il problema è che... Lui comunque continua a mettermi la roba sul... Su quello di fianco... Io glielo sposto fisicamente... Non è anche così! Se prendi le spregnate però in quel caso... Se dicono gioco di merda... Solo per un problema saltuario così... Sì... Li prenderei ad anacondate! Pare che non gliela farei bene un cazzo! Anzi... Io per le icone su Windows... Su schermi così... Se metto il primario... Poi... Le icone le tiene come ce le metto io! Sì, no... Il problema è che io... Ho fatto partire il driver... Appena gli ho detto... A schermo intero... Lui ha deciso che... Me lo metterà sull'altro! Perché devi dirgli lo schermo 1, 2, 3? Perché... L'hai venuto come primario... Però magari è il 2! Per dire... Ah, è uscita video 1, 2... Aaaaaaaaaaaah... Ma la vorrei qua! Ma la vorrei qua! Ma la? Perché l'hai messo come primario? Sì, ma dipende. Tutto come viene gestito... Sì, sì, sì... Ok connection error! Fantastico! Dove minchia mi ha lasciato adesso? è quello il problema, quando vanno a petane vanno a petane ok mi sa che la serata elite finisce qua eh, faccio un informatico mica per niente, ma anche lui sarebbe informatico però sì, mi sa che non mi carica più l'openplay ha detto, vabbè ma lì è possibile perché devo uscire devo proprio uscire e rientrare da tutto il pc sì sì, proprio dal launcher è possibile sentivo ancora il rumore del supercruise nelle cuffie la mia mitica conda dove mi ha lasciato, dove mi ha lasciato a quanti giga anni luce devo rifarmi tutta la strada, fantastico però se non altro salto me l'ha tenuto sono stati preparati pronti per rinunciare 3, 2, 1, rinunciare fammi immaginare, adesso se refrescio quel thread stupid server però quanti... 40 no vabbè gli succede un fatto di volte ma non tra il cazzo così e la metterò a coglioni il mitico modellino della condina arancione lì tiene l'ultima nave che hai la nave su cui sei la nave su cui sei il modellino di tutto adesso speriamo solo che non si inchiodi di nuovo ho recuperato no 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 stavo leggendo il thread una nuova risulta devi andare lungo l'ho recuperato in extremis La vasta quantità di slaves freed in the CG just broke out and destroyed the server? Anche del rover, si, lo fa anche del rover Cosa? Una schermata di caricamento quando c'è la nave che gira, lo fa anche del rover Se sei sul rover quando fai il logout Eh no, l'ho però vista Si si, lo fa anche di quello Non fa dell'ultima cosa su cui sei, hai appoggiato il culo No, dicono che hanno avuto un piccolo problema con i server proprio E c'è già un amministratore che ha già detto che dovrebbe essere tutto a posto Quindi in teoria non dovrebbe essere più Infatti a droppare la stazione istantanea Istantanea Cinque ore da te per arrivare fino a Cuneo? Ah Ah In cinque macchine, in macchine cinque ore vedo quante a piedi Si, buonanotte Mi vedo già le centinaia Trentanove Trentanove Sono andato un pochino lungo Bonk Novantun ore a piedi Novantun ore a piedi Uuuu Quattro giorni se non ti fermi O ti fermi veramente poco Ed ecco Feeding the beast E vai Una donation E ho fatto l'1% di rank federale E vai Mi senti? Senti? Si, ti sento, ti sento Ah, ok Cosa hai combinato? Che... Eh? Penso che passerà Elite su schermo secolo, sai? Che mai? Ma perché... Due monitor di fianco servono molto di due quelle chat che... Che per Elite, secondo me Si è fatto il computer per tre monitor apposta Eh? Si è fatto il PC apposta per tre monitor su Elite Eh... non so Per salire di rango Si fanno missioni Allora, le missioni servono per salire di rank questo Major Faction Federation Empire Alliance Le... Taglie... Invece si fanno per gli altri Combat rank Vabbè, le taglie e combat rank Poi... A meno che ci siano delle missioni che ti dicono Ok, fai fuori dieci pirati In quel caso fai tutte e due, diciamo 4... 3... 2... 1... Engage E a me quello che manca per la Giga Navona E quel Federation Rank Che mi manca Che devo... Oltre a quel 62% che sono già Devo ancora farne due di livelli? Non mi ricordo Perchè sono veramente tanti rank e... Non lunghi di più da fare No, perchè va lungo Gira... 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 Una balena spiaggiata la Konda A girare... Un minuto di silenzio poi per la sedia perchè sta morendo in agonia Devo fare un casino di missioni... Esatto Ma... Un casino ma... Tante... Si parla di 200 ancora Forse se va bene Bene o male c'è... Ci sono le missioni di donazione di soldi Che permettono di velocizzare un po' Nel senso che una missione fai... L'1% o 2 se va bene Il problema è che trovare queste donazioni non è proprio così semplice Bene o male c'è un sistema Abbastanza vicino da qua che lo fa fare Solo che... Ne puoi prendere... Ne trovi due Ne trovi tre Eh... E' la madonna, si Esatto Capito perchè non l'ho ancora presa la nave? Perchè... Perchè... Prima... Ero un rank sotto Al 40 e qualcosa Sono arrivato al lieutenant 60 Poi mi sono rotto le balle Ci ho perso due ore Ho fatto un rank e qualcosa Quindi immagina quanto tempo ci voglia Io adesso sono lieutenant Devo ancora fare... Vabbè... Quel 40% che mi manca Poi devo ancora fare Uno... Due... Tre... Quattro livelli Quattro rank Ecco Giuda Che... Pal... Mi si sono già squartati i coglioni solo per fare quelle missioni Già solo fare il conto Quindi 200 missioni mi sa che non basteranno mica Anche solo quelle di donazione ma non basteranno mica Perchè adesso io sono lieutenant Wikipedia dice che dopo lieutenant c'è lieutenant commander Post commander Post captain Rear admiral Che è quello che serve per la nave No due ore il 120% di un rank Circa Un livello e qualcosina ho fatto in un'ora e mezza Non erano proprio due ore ma Rimane un casino in ogni caso Se invece vuoi proprio fare le missioni Normali di caccia Di... Di trasporto Due ore il 90% dirà Anche più che... Possibile Se non fai tutte le donazioni Solo che ci vogliono un centinaio di missioni Per un rank Me ne mancano tre e mezzo Sì ma... Sì otto ore se mi metto solo a fare quello È per quello che prima avevo detto che mi apro Netflix E mi guardo qualcosa mentre lo faccio Perché è di una... Lentezza inumana Letteralmente Solo che non puoi lasciarlo lì a macinare No? Devi farci attenzione Perché le devi selezionare Le devi completare Le devi... Le devi farlo a mano Devo vedere se ci sono dei bot per farli Perché... Le missioni? Le donation Ho paura di no ma... E comunque... Beh... Non so... Cioè con tutto quello di già giocato Non so se ti conviene farle fare i bot Già Metti che poi qualcuno non piaccia E' presente Quanto sono arrivato come... Statistiche Come tempo giocato 3 settimane 3 giorni 3 giorni 16 ore Quindi 24 giorni 24 giorni 24 giorni 24 per 24 Ah beh... Fanno già No Tu c'è E io che non ero neanche convinto di prenderlo Figurati Non ero neanche convinto di prenderlo all'inizio No, proprio Elite Ah sì? Poi però l'ho preso e ci ho passato 500 rotte ore No, 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 questo ho già guardato da Elite proprio Steam ne segna 300 circa Su Steam Mi segna 3 settimane e 3 giorni e 16 ore Ah, ok Immagino che c'è un gioco a cui ero convinto di prendere Quanto ci giochi? Non ho le statistiche per dirlo Ma a Gears of War 3 quanto ci abbiamo giocato? Penso che gli abbia fatto andare in overflow Probabile Effettivamente a me aver resettato il rank Ma dici che era per quello? No Gears of War Se poi sommiamo tutte e quattro le versioni Beh, 5 visto che io ho anche quella per Xbox One Nel mio caso Su Gears of War probabilmente le 2.000 ore ce le siamo passate senza grossi problemi, vero? Penso di sì Nel massimo ho giocato 184 ore su Skyrim Eh, hai già anche 184 ore su Skyrim Non è già male Un gioco single player? O ti sei fatto tutte le missioni? Non riesci a concepire mille ore su un gioco? Guarda, quando sei in un gruppo da 5 A sparare minchiate Sia insieme a te che contro altre persone Perché sono le prime che Si mettono a insultare Guarda Non c'è prezzo E non c'è limite di ore Ma infatti anche Gears abbiamo Comunque Season Pass li abbiamo presi tutti Perché alla fine li abbiamo fatti andare Elite Io e Lucchino Lifetime Expansion Pass L'abbiamo preso Eh sì, ma se giochi tanto Già Perché io su Elite Contando Allora 50 euro Il gioco base Più 160 150 cos'era E sono già 210 Quello che tu non hai Eh, mi dispiace che non hai il fattore gruppo Allora Se poi qualche gioco che abbiamo anche noi Consideraci pure Perchè il fattore gruppo fa tanto Su tutti i giochi Multiplayer ovviamente Forse anche quelli single player Se ne vuoi giocare Per cento Vabbè Quello è tranquillo Sto clipper Goloso così Però c'è quel Perchè il tronzo Prima che Devi trovarti bene Quindi se brecchiamo Con una Elite Poi non ti passa Pensa io che mi sono sopportato Lucchino Un anno Su Elite Non credo sono giochi un po' vecchi Non andiamo Non seguiamo molto le date nuove Quindi Se non per qualche gioco in particolare Vedi Dark Souls che esce a mad aprile Per il resto non seguiamo molto le date noi Non c'è già Non c'è scusa Non c'è già un po' vecchio Non c'è già unito qualcuno Che vorrebbe venire a giocare con noi Forse Scrappi Non mi ricordo Non mi ricordo Mi sembra che qualcuno Ovesse già venire Non ho pochi come quelli fattibili in gruppo Sono Dead Island Riptid Non ce l'abbiamo Almeno Io non ce l'ho Non so Scamato Questo Clipper voleva il bacino E se l'è preso Più che altro è venuto a darmelo Perché è lui che Non si è fermato Conta che Forse il gioco più recente che abbiamo preso Qual è stato? Elite? Proprio? Vabbè il Diver Vabbè il Diver si Si ma non è recente Penso da vario che c'è Mi sembra il Diver Tra poco c'è Dead Island 2 Dead Island non l'ho mai provato Dovevano quelli di limone i miei amici di limone Si mi ricordo che c'era Però non mi era piaciuto tantissimo C'è Isabella Oh c'è Isabella Vieni Non guardare un attimo la live Non mi uccidere Nooo Figurati Per chi mi hai preso? Cattivo Ma non sto mica andando a ucciderti Cattivo Cattivo Non sto mica andando Malefico Non sto mica andando Non sto mica sparando Per chi mi hai preso? Cattivo Mi verrebbe da dire Cattivo Guarda sta andando a sbattere contro gli asteroidi Sta per esplodere Se non sai guidare neanche lì Va a cagare Ha trovato tanti piccoli asteroidi rossi Condoglianze Condoglianze Non l'ho fatto apposta E' stato gli asteroidi E' stato gli asteroidi Sì E' stato gli asteroidi E' proprio convincente Detto così Vero? E' più convincente Più convincente Sì E' però anche tu Se non sai evitare gli asteroidi Detto da me Che ormai sono diventato famoso Per gli asteroidi Dai Clipper collabora Vieni qui Sì Quel vieni qui Non ti ho detto Stai fermo Che ti Lo prendo Lo prendo Lo prendo Non l'ho preso Le diamond parla di muni E' un virus che tramuta Un'intera isola in zombie Tu sopravvivi con altri muni E non E cerchi di fuggire dall'isola Riptid è molto simile al primo Solo che cambia isola In alcuni luoghi Anche se è implementato Per Tipo girare Con una barca Per l'isola Sapevo che Riptid Era praticamente Uguale al primo Ma da ignorante Lo dico Perché non Non ho provato Né uno Né l'altro Quindi Infatti mi dici Che è molto simile al primo Quindi Ci può stare Va bene ragazzi Io vi lascio Buona continua stazione A chi continua Eh io tanto mi sa Che faccio questa anaconda Poi il caso di andare a dormire Purtroppo Va bene Buonanotte E buonanotte Isa Ciao 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 Perché vedo che Non già l'undici e mezza passate Forse è il caso anche di andare a dormire Guarda tutti sti mirini Che si sputtanano Scusate ho cliccato male Storie diverse anche l'ambientazione Mi fido Come ho detto prima Non avendo provato Né uno Né l'altro Mi sono accontentato Di quello che mi hanno detto Mi sono accontentato Non è distrutto E Dying Light Sì ho letto Ho visto qualcosa E effettivamente Forse potrebbe Meritare un po' di più Come stile di gioco Però poi non ho più Guardato Ed è rimasto lì Nel dimenticatoio Tra virgolette Poi da poco So che è uscita Anche un'espansione Se non sbaglio Allora intanto Andiamo fino alla stazione Che domani è lunedì mattin Intanto il thread Degli stupidi server Che pagina è arrivata Già la 5 Ah c'è stata una Super veloce Manutenzione Ai server Prima È strano Quando hanno iniziato a esplodere Hanno detto Forse è cosa di controllare Forse è E Dying Light L'ho guardato un po' Quello che adesso Comunque esce Tracmania nuovo Un giorno o l'altro Forse dovrebbe uscire Final Fantasy 9 Per PC Se si degnano Di farlo uscire Una square Dark Soul 3 E probabilmente Anche su Dark Soul Passeremo un po' Tra merdate varie Eccetera E cosa c'è ancora Di bello che esce Vabbè Le espansioni di Elite Sono a parte Vengono considerate a parte Perché Tanto quelle ci arrivano In un modo o nell'altro Docking request Poi di bello Non sono andato Oltre Dark Soul Sinceramente Vabbè Gears of War 4 Che dovrebbe esserci La beta Ad aprile Dicono Questa primavera E se è open beta Io gioco A Gears Generica te Non entusiasmano Sinceramente Ma beta Open beta Su? E se fanno l'open beta Su Gears 4 Io ci gioco Insieme a Sul Quale cosa? Eh Xbox probabilmente Mi spiace Che non siano Generi Che piacciono Tanto a te Allora Refuel Reload Quanta grana Avrò fatta Mignoncino Mignoncino ancora? Sì Non male Non male Riparo anche quello E Direi che per stasera Può bastare così Quindi Qua ho controllato Ho controllato tutto Allora vi auguro una buonanotte Grazie sempre per la compagnia Visto che ormai siete diventati fissi E buonanotte Ti li sentiremo domani sera Dobbiamo ancora decidere magari su cosa Ma sera elito Ehm Diavolo no? Diciamo diavolo domani? Ok E non c'è elitica Bisogna? Eh sì Solo che adesso Non è in chat Quindi non te lo so dire Sì Beh Ci direi come è andata la verifica Dimmi che hai studiato oggi pomeriggio Allora un pochino almeno Dici poi com'è andata Aspetteremo dieci no? Vero? Un quindici E allora buonanotte E ci sentiremo domani sera Ciao 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 ciao